Quando parliamo del contratto di governo, questo l'ha già annunciato Luigi Di Maio, che come è stato il modello che è stato preso, ad esempio, è quello tedesco e anche in Germania il contratto di governo è stato ratificato dagli iscritti all'Espede. Ovviamente noi lo faremo in modo leggermente diverso, forse un po' meno costoso di quello che è stato attuato in Germania e chiederemo agli iscritti al Movimento 5 Stelle di votare direttamente online e non cartaceo come è stato fatto all'estero.